Tornano all'Aquila, tre scuole di specializzazione, cardiologia e neurologia che erano state soppresse lo scorso anno e pediatria che era stata fatta in collaborazione invece con Chieti Pescara e che ora torna a pieno titolo nel capoluogo di regione. Lo ha deciso l'Osservatorio Nazionale a seguito di un percorso difficile intrapreso quasi un anno fa dal comune, dalla rettrice dell'università, dal prolettore Masciocchi, dai capi dipartimento ma anche dai docenti delle specialistiche interessate. Molto soddisfatto Guido Liris che tra l'altro per conto del comune cura rapporti con l'Ateneo. Sono tre scuole molto importanti per la nuova sanità da costruire sul territorio e per le aree interne ma la battaglia secondo Liris non è finita perché c'è il nodo da sciogliere che riguarda i posti per la formazione. Sarà la conferenza Stato-Regioni infatti a stabilire quanti posti assegnare alle scuole di specializzazione. Soddisfatta ovviamente la rettrice Paola Emberardi, è un lavoro che si stava facendo ed eravamo quasi convinti di riuscire per l'anno prossimo a settembre a riportare queste tre scuole di specializzazione all'Aquila ma ovviamente l'attribuzione da parte dell'Osservatorio Annuale. Quindi il lavoro va consolidato e si tratta di un percorso virtuoso intrapreso con la collaborazione della ASLA, detto la rettrice. Una notizia molto importante anche per il sindaco Biondi e per la sanità delle aree interne. Del resto di questo argomento si era parlato di recente anche in un convegno promosso proprio dal Comune dell'Aquila. La soppressione delle specializzazioni nel capoluogo di Regione era stata presa a seguito dell'istituzione di nuove norme e criteri imposti dal Ministero dell'Istruzione. In questi mesi si è dimostrato invece che c'era stata un'interpretazione troppo restrittiva di questa norma. Si sono integrate le scale di Ateneo e quindi singoli professori ordinali hanno inviato anche dei report sulle strutture convenzionate, e strumenti didattici all'offerta formativa, tanto che alla fine si è riusciti a spuntarla.